Musica Benvenuti qua in questa nuova fantastica intervista Ebbene un'altra intervista, un'altra giornata, un altro video con un'altra persona assai molto 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 brava nel mondo di youtube Ladies and gentlemen, diamo il benvenuto al dottor di Ferdinand Ciao Oggi siamo qui per spolparlo, per vedere che cosa ha da mostrarsi nel mondo di youtube e iniziamo allora con le domande Quindi, prima domanda di prova, come hai scelto questo nome? Allora, il dottore è abbastanza self-explanatory, quindi è dottore fondazione SCP Per chi non conosce, se faccio video su SCP, che è tipo questa creepypasta Stile di creepypasta in cui si leggono documenti di anomalie che vengono rinchiusi in un... cose Leggendo senza andare troppo nello specifico Sono un dottore per quel motivo D è invece l'iniziale del mio cognome Mentre Ferdinand è il nome di un personaggio di un manga Che è la settima parte delle bizzarre avventure di Jojo Che c'è uno che si chiama effettivamente Dottor Ferdinand E mi piace come personaggio, è simpato, anche se appare per tre capitoli Come mai hai iniziato a fare lo youtuber? Un'idea che è condividere video in generale, la mia passione, che sia videogiochi, che sia in questo caso SCP Che mi porto dietro da tanto tempo, infatti ho altri due canali Prima di questo qui ho entrambi ovviamente abbandonati a se stessi Uno ho fatto i tempi delle medie in cui caricavo veramente video... Beh, avevo fatto un video di SCP effettivamente Di Containment Breach Gameplay di giochi horror, così E poco altro in realtà Poi un altro ho fatto i primi anni di superiori E il problema è che non avevo il tempo di starci dietro e è morto pure quello lì Però tuttora, ogni tanto, se carico altri tipi di contenuti Principalmente shitpost Lo metto su quell'altro canale Quali sono stati i tuoi pensieri o perplessità quando hai iniziato a fare i video? Allora, vediamo Come perplessità direi che più una paura di non riuscire a starci dietro Come è successo con l'ultimo canale, giustamente Pensavo di non riuscire a dedicargli del tempo E poi io sono una persona abbastanza molto inconsistente, se possiamo dire così Non so se sia corretto come forma in italiano Però non sono molto consistente Mi dimentico di fare le cose Non ne ho voglia e la rimando dopo, la rimando dopo e dopo non la faccio più Infatti mantenere un canale per adesso quasi un anno Adesso manca un paio di mesi a un anno È veramente un grande traguardo per me come persona Non come youtuber, come altre cose Mentre invece come pensieri Pensavo, soprattutto i primi video, a trovare un format nel senso proprio di video Impostazione video di come inserire questa cosa, quest'altra cosa, che musica usare Che filtri della voce usare, cose di questo genere Per arrivare a un mio stile che sentissi mio e che funzionasse Come mai hai scelto su questo canale di fare video sugli SCP? È una cosa molto semplice in realtà L'estate scorsa è quando ho avuto l'idea Però guardare video di SCP di questo tipo Come quelli che faccio io per esempio Di letture principalmente Però faccio anche gameplay e altre robe È venuto dal fatto che io guardavo Adesso non c'ho più il tempo Però guardavo un sacco di video Per esempio di The Volgun Che è un youtuber anglosassone Che fa questo genere di video E ho detto Ma perché non farlo anche io in Italia? E basta Cioè in realtà non c'è stato tanto pensiero dietro Ho detto È un esperimento Proviamo se funziona E adesso penso che stia funzionando comunque Cosa hai provato la prima volta Che hai iniziato ad avere fan Che ti acclamavano sul tuo canale? Allora La prima volta che è successo Penso sia stato proprio all'inizio delle live Quando sia io Che tra l'altro l'avevo detto Ai miei genitori E c'era il mio papà Che sta guardando le live in contemporanea La mia prima live Cosa del genere Prima, seconda Cosa del genere Ed è stato lì la prima volta Che c'era la gente Che mi chiedeva Ah dottore Mi saluti Mi saluti Che adesso è un po' una cosa Che è diventata un po' vecchia E anche un mezzo meme Del mio canale Del fatto che ogni volta Ci deve essere qualcuno Che dice Mi saluti Se adesso è un po' Non dico fastidioso Perché comunque Lo fanno con buon Buon intenzione Non lo fanno con cattivera Perché dicono È uno youtuber che mi piace Mi piacerebbe Che parlasse di me Un attimo Che dicesse anche solo il mio nome Però Se voglio proprio descrivere La sensazione iniziale È veramente È una cosa Che tuttora apprezzo Come ho detto È un po' fastidioso Nel senso Che toglie tempo alla live Non il fatto in sé Che lo scrivano Ecco Nel senso Per chiarirmi Non voglio sembrare Una persona orribile Che odia i suoi fan E apprezzo ogni volta Che lo scrivono Generalmente sì E questa qui È una sensazione Molto strana Sentirsi chiamati Sentirsi messi Su un piedistallo Ecco Quando tu Poco tempo prima C'è anche minuti Prima di farla live Sei a casa da solo Oppure con Per esempio Io sono con la mia ragazza E non c'è mai stato Questo genere Di rapporto È molto strano Molto surreale Ecco Che cosa farai Se un giorno Dovesse arrivare Che ne so A 100.000 iscritti Beh 100.000 sono veramente tanti Oddio Non ci ho mai pensato Non penso mai A così tanto In avanti Cerco sempre di stabilirmi Delle meta Abbastanza vicine Che siano Ho fatto Sono partito con i 100 I 500 E poi in realtà Neanche 1750 Non lo so Perché mi ero Pensato a questa cosa Adesso sto andando Per i 20.000 Che non sono Nei troppo vicini Nei troppo distanti 100.000 non ci ho proprio Ancora pensato È una cosa Che mi piacerebbe fare Che però Ho intenzione Di implementare fra poco Sempre nell'ambito SCP Ma portare qualcosa Di più personale Infatti sto pensando Di scrivere una storia In stile roleplay Se vogliamo metterla Così diciamo Comunque all'interno Dell'universo SCP Qui spiego La storia del mio personaggio Quello che ho creato Con questo canale E magari All'ora dei 100.000 Se mai un giorno Arriveranno Io mi auguro Però insomma È sempre una cosa Molto distante Di riuscire A diversificarmi Magari anche Come ho detto È molto distante Magari anche fuori Dagli SCP Però non ne ho idea Adesso non ho alcun piano Di uscire dagli SCP Dall'argomento Ecco Però riuscire Ecco a diversificarmi Un pochino Portare più contenuti Che sento miei Perché leggere i documenti È veramente bello Da condividere Da leggere Da creare Però lascia un po' A desiderare Per quanto riguarda Contenuti personali Perché è una cosa Che non scrivi tu Ma hai tradotto tu In alcuni casi Alcune volte le traduco io Ma la maggior parte dei casi Non l'hai scritta tu Non l'hai tradotta tu La stai solo leggendo L'hai imposti La rendi più interessante Più accessibile su YouTube Però Non è una cosa tua Ecco Niente Per sentirmi un attimo Più realizzato Riuscire a portare qualcosa di più personale Adesso cambiamo un pochettino Le tipologie di domande Lasciamo da parte il tuo canale E partiamo con Il generale YouTube Cosa ne pensi Di YouTube come piattaforma? Allora YouTube come piattaforma Come ho detto anche prima È una cosa che È un'idea Che mi è sempre piaciuta Il poter condividere In generale Anche prima di YouTube Io ero una persona Che spesso andava in giro A condividere cose con gli amici Quindi YouTube come piattaforma È una buonissima idea Peccato che però Negli ultimi anni Mesi Comunque nei recenti tempi Si stia un po' troppo Corporatizzando Come abbiamo visto Col sorpasso di PewDiePie Da parte di T-Series Che è Un'azienda Che supera un creatore Che per quanto fosse il più grande Per quanto avesse altra gente Che lo aiuta A editare i video Comunque era una persona Non è un'azienda Con film Musica E altre cose È un po' Mi dispiace per questa cosa qui Però comunque Nel generale È ancora una piattaforma Libera Libera se non vuoi soldi Se vuoi qualche soldo Hai bisogno di metterti Qualche limite Per quanto riguarda Linguaggi Cosa che mostri Un po' come ti esprimi Però Se non ti interessano i soldi Puoi effettivamente Esprimiti come vuoi E appunto proprio Di soldi Cosa ne pensi Di YouTube Italia Visto che ultimamente È sempre dietro Per la maggior parte Di persone famose Che guadagnano anche soldi Che portano Diciamo sempre Le solite cose Per poter diventare famosi Cosa ne pensi Di questa cosa Delle tendenze Allora Chi segue le tendenze Secondo me Come lo dico spesso Anche nelle live Me lo chiedono Anche una domanda simile Per esempio Che ne pensi Di YouTuber X YouTuber Y Che fa video solo Per bambini Per prendere Per guadagnarci qualcosa E basta E io dico Beh buon per loro A me Di questi Dilemmi morali Mi interessa Ben poco Nel senso Uno può utilizzare La piattaforma Come meglio crede Se lo vuole fare Per prendere Per guadagnarci qualcosa Se vuole farlo Per condividere Se vuole fare Per una via di mezzo Può fare come vuole L'unica cosa È di non Magari Spacciarsi Per un tipo Di YouTuber Quando in realtà Chiaramente Non lo si è Nel senso Adesso non ho Nessun esempio pratico Sto solo parlando In maniera molto Generale Molto astratta Senza effettivamente Un esempio concreto Però Mi darebbe fastidio Se uno YouTuber Che palesemente Fa video seguendo I trend Magari di argomenti Che neanche gli interessano Che ne sono come Grandi streamer O YouTuber Che fanno Fortnite Da mesi e anni Solo perché continua A essere di moda Sicuramente Guarda Ci scommetto la vita Quello che vuoi Che non si stanno divertendo Però almeno Non vanno a dire Che sono un canale Genuino L'unica cosa Che mi potrebbe dare fastidio Al resto Qualcuno Cioè Chiunque può fare Quello che vuole Veramente Ultima domanda Pensi che un giorno YouTube possa diventare Un lavoro Allora Sarebbe bello Mi piacerebbe Come ho detto Per la terza volta Come dice È una cosa Che mi è sempre piaciuta Quindi riuscire a portarlo avanti Magari anche come una specie Di lavoro Sottospecie di lavoro Sarebbe Divertente Interessante Sicuramente Dedicare il mio tempo Completo A YouTube Porterebbe a di video Di qualità maggiore Più frequenti Ma per ora Non lo riesco a vedere Quello che guadagno È meno Di quanto Ho guadagnato Quando Alle superiori Ho fatto I Come si chiamano Le alternanze scuola lavoro E quelli Non sono neanche Obbligati a pagarti Però ho preso di più Facendo quello Per dire Rispetto a quello Che prendo adesso Però è completamente Diversa come cosa Perché è una cosa Che mi piace fare E quindi riuscire A ricavare qualcosa Da un tuo lavoro In cui È comunque creativo E quindi Che origina da te Almeno in parte Come ho detto Le letture Non sono proprio Completamente Mio lavoro Però riuscire A guadagnarci qualcosa Da quello Che ti piace Creato da te È molto soddisfacente Per quanto La somma sia Piccola Alla fine Tanto non è che Ci abbia spese Non ho una casa Da mantenere Sì una casa Da mantenere Non ho Una casa Tasse da pagare Una famiglia Da mantenere Quello che prendo Adesso lo sto spendendo Per il canale Mi prenderò un microfono Per poco Con quelli che arrivano Di questo mese E niente È molto bello Mi piacerebbe Riuscire a trasformarlo In un lavoro E anche io Spero in una cosa Del genere E spero anche Di poter crescere Quindi Grazie moltissimo Per aver risposto A tutte le mie domande E grazie per essere Aver dedicato Un po' di tempo Per noi Spero tantissimo Che ti sia piaciuto Stare un pochettino A rispondere Un po' di domande Sul canale Spero un po' di È stata una bella esperienza Verrai inserito Nella mia collezione Di interviste Che sono anche troppe Ultimamente Bene Va bene ragazzi Quindi Da Inde è tutto Ci vediamo Nella prossima Se questo video Vi è piaciuto Lasciate una bella Zampata sopra Mi piace Se vuoi salutare Ciao Non ho proprio Io c'ho C'ho la mia outro Però è troppo lunga Da fare E noi Vediamo di ritrovarci Al prossimo Video Aio 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 Grazie.